La città di Pagani si prepara a commemorare il tenente Marco Pittoni a 16 anni dalla sua tragica scomparsa avvenuta durante un tentativo di rapina all'interno dell'ufficio postale di Corso Padovano. Pittoni, comandante della locale stazione dei Carabinieri, perse la vita il 6 giugno 2008 mentre affrontava i malviventi. Nonostante avesse scelto di non fare uso dell'arma in dotazione per evitare di mettere a rischio l'incolumità delle persone presenti, il tenente riuscì a immobilizzare uno dei rapiratori prima di essere aggredito alle spalle dal complice. Durante lo scontro fu colpito da un proiettile e nonostante le gravi ferite cercò di eseguire i fuggitivi prima di soccombere esausto. La cerimonia in suo onore prevede una celebrazione eucaristica ufficiata da Don Flaviano Calenda alle ore 10 presso la Chiesa Madre del Corpo di Cristo. Al termine della Santa Messa i presenti in ordine sparso si avvieranno sul luogo in cui il tenente fu ucciso per assistere alla deposizione della corona di alloro a cura di due militari in grande uniforme e la lettura della motivazione della concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria presso l'ufficio postale di Corso Ettore Padovano. Il posizionamento a mezz'asta delle bandiere della tenenza carabinieri di Pagani sarà seguito da un toccante minuto di silenzio in segno di rispetto. La comunità renderà in questo modo omaggio alla memoria al sacrificio di uno dei suoi figli. La figura di Marco Pittoni resta infatti incancellabile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare a fianco a lui.